...de Paulis, che è qui presente, che è docente di comunicazione all'Università di Teramo, il quale ha recepito tutte le nostre indicazioni e ha realizzato questo prodotto, questo brand che oggi andremo ad illustrare. Noi siamo veramente convinti che investire in maniera strutturale, sistematica nel mondo digitale si porti veramente a innalzare quella che è la qualità dei servizi del nostro territorio. E pertanto che abbiamo voluto scegliere questo brand, Go Alba Adriatica, un brand fresco, giovane, per il quale che identifica perfettamente la nostra città, la città che da poco ha compiuto 60 anni. Noi praticamente abbiamo voluto creare questa comunicazione di marketing perché partiamo da questa comunicazione di marketing che non deve essere una base esaustiva, ma è un progetto aperto che potrà essere contaminato da tutti gli operatori turistici del settore, da tutti i cittadini e dai turisti stessi.